Signore e signori, ho il piacere di presentare colui che ha voluto tutto questo e accetta sempre le mie follie di progetti, signore e signori Piercarlo Alphabio! Ciao! Buonasera sindaco! Ehi, finalmente siamo un po', eh? Sindaco! Ciao, ma c'è una bella giacca, se ne lo dicevi mi mettevo anche qualcosa di più colorato. Te la presto per il balletto? Sì, dopo però, eh? Prima lo fanno loro, io lo registro e sono qui. Ti metti qui a registrarlo? Sì, sì, sì. Va bene. Allora... Ci voleva uno che registrava col balletto, lo faccio io. Piercarlo, una battuta? Ma adesso... Oh, una battuta alla piazza per augurare il buon anno. No, a me fa piacere che siano così in tanti e che vogliono respirare tutti assieme l'aria della nostra comunità. Insomma, a me, questo poi era l'idea che tu hai lanciato e che noi abbiamo raccolto, ovviamente, insomma, con il grado di provocazione e di sfida che tu ci dai. No, a me fa piacere che tu hai lanciato. No, a me fa piacere che tu hai lanciato. No, a me fa piacere che tu hai lanciato. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no